Amici e guardoni degli scacchi, ben ritrovati. Facciamoci un paio di lampo del sabato pomeriggio per restare umani, come dicono, no? Visto che sono tempi disumani quelli in cui viviamo. Bazu Pack! Allora, D4, giochiamo l'Est Indiana che ci ha dato grandi soddisfazioni nella variante marmellata. Sistema di Londra, niente Est Indiana. Allora facciamo E6, poi C5 per scardinare subito il centro. C5, perfetto. E poi, qua, Donna B6. Prendiamo di mira questo punto debole. Lo difende. Adesso facciamo un bel D5. Tutto regolare. Posso sviluppare il cavallo. Facciamo prima così, va? Posso sviluppare il cavallo, posso sviluppare l'alfiere. Sviluppiamo il cavallo. Il suo gioco è super tranquillo, super regolare. Potrebbe prendermi la coppia degli alfieri, ma francamente me interessa anche poco. Facciamo così. Rifiniamo di sviluppare i pezzi. Sviluppiamo anche il super alfiere. Ah! Fa così lui. Va bene. Allora, adesso... Pensavo che mi prendesse l'alfiere, ma mi ha preso il cavallo. Probabilmente speculando sul fatto che questo alfiere è campo chiaro e cattivo. Adesso il mio gioco dovrà consistere nel fare E5. Anzi no, dovrà consistere nel fare D4. Insomma, nel liberare l'alfiere, in poche parole. Via dai. Quindi cominciamo a... Cominciamo ad arroccare, intanto. Che non fa mai male. Oddio, potrei anche fare questa, eh. Prendiamo una volta. Ok. Adesso facciamo questa. Così infiliamo alfiere tore, ci cambiamo l'alfiere cattivo. Ok. Ok. Adesso questo pedone è inchiodato. Cosa vuole? Ah, oh signore. Ma sì, vabbè. C'è la torre sotto. Vediamo un po'. Lui potrebbe fare alfiere E3. Allora io posso prendere questo pedone qua. Perché è inchiodato. Così mi recupero il mio pedone. E siamo tutti belli che contenti. Adesso prendo qua. E direi che andiamo bene. Più o meno, insomma. Ok. Torniamo indietro. Teniamo questa bella batteria qua. Così. Dunque se io prendo... Lui mi prende l'alfiere. Non sta buono. Facciamo così. Questo è debole. Dovrei poi prendermi un tempo per fare la G8. Perché il re qua è scoperto. Questa cosa non è aperta. Scusate. Le sto masticucciando una ricola. Ma sì. Partita un po' piatta. Via niente di che. Ma io detesto giocare. Se devo dire la verità, signori. Detesto giocare queste posizioni così piatte. Così palloccolose. Però. Gli scacchi sono anche questo. Una manovra così. Non è male. Ah no, però questa casa. Che stupido. No, no. Questa casa è tenuta dal cavallo. Dove vado. Togliamo il re dalla colonna aperta. Va. Adesso. Direi che possiamo. Centralizzare la donna. Lui potrebbe voler venire qua. No. Qua non fa. Adesso teniamo l'occhio qui. Adesso questo pedone è inchiodato. Quindi. Attare un po' di attenzione. Ma insomma. Va bene. Mmm. E se io facessi. G6. Re G7. Torre H8. Prendo di mira qua. Però c'è il cavallo che difende. Non è che anche. Vabbè. No. Perdiamo un tempo. Esatto. Veniamo. Aspetta. Dunque. Presa. Presa. Non posso prendere. Però posso minacciare questo pedone qua. Giusto? E al limite è questo qua. Ok. Uno lui e uno io. Adesso questo è sotto. Presa. Presa. Perché? Perché H3? Non lo so. Vabbè. Prendiamoci questo pedone. Lui prende quel pedone lì. Io gli attacco la dona. Gli attacco la dona. Oppure no. Facciamo così. Dai. Difendiamo questo spingendolo. Potrei fare donna C2 per attaccare la torre. Torre di 8 è buona. Sì. Posizione pari. Io ho questo vantaggio di 2 a 1 qua. Io ho vantaggio di 2 pedoni a 1. Quindi potrei speculare su questo fatto. Lui ha 3 su 2 sul lato di re ma è più facile per me andare a promozione. If you know what I mean. Cosa vuole? Vuole venire qua. Qua. Ah. Ostria. Scacco. Come lo difendo? Lo difendo così? È un po' passivo. Lo difendo così? No. Perché prende. Posso prendere il cavallo. Prendiamo il cavallo. Dai. Beh. Facciamo così. Attacchiamo qua. Sì. Vabbè. Poca roba. Ok. Andiamo su quei pedoni. Creiamoci il pedone passato. Pedone fortunato. Lui è bloccato. Quindi questo è bene. Potrei venire qua e qua. Al limite. Poi lui mi da perpetuo. Non lo so. La posizione è un po' stranuccia. Allora. Prima di spingere ancora il pedone A. Devo stare un attimo attento. Facciamo così. Presa, presa, presa. Sì. Potrebbe andare bene. Presa. Sì. Bene. Va bene per me questa. È buona per me. Veniamo qui. Così. Mettiamo la torre dietro i pedoni. Adesso questa non si può spingere. Così. Veniamo su correva. Se no non ci accadiamo più. No. Ho sbagliato. Ritorno qua così taglio il re fuori. No. Non lo so. Un attimo. Devo pensare. Così. Così va via il re. Ok. Se lui viene qua. Io vengo qua. È poco tempo però. Presa. Ok. Andiamo a prendere quel pedone là. Lui lo difende. Io lo vengo. Io lo spingo. Così. Così. Complicarsi. Allora l'approccio sicuro è questo. Cambio. Cambio. È buon. L'approccio rischioso è questo. Però guadagno un pedone. Che va bene. Allora. Presa. Presa. Forse è vinta. Sì. Mi sa che è vinta. Sì. Guadagno l'opposizione. Lui viene giù. Sì. È vinta. Bella. Bella. È viva. Così. Così. Puoi abbandonare. Bazzucca. Donna. Adesso vengo a darti il matto. Dai. Abbandona. Abbi. Decoro. Ok. Top. Allora. Che dire di questa partita. Partita posizionale. Di pazienza. Basta sostanzialmente. Lui ha giocato un po' passivo. Ecco. Ho giocato un po' passivo. Io ho sfruttato. Diciamo così. La maggiore attività dei miei pezzi. Io. Sono abbastanza stanco però. Dopo questa partita. Vediamo la revisione al volo. Farei solo questa. Ecco. Perché. Queste partite lente. Di finali interpinabili. Con donne e pedoni. Mi devastano. Mi devastano. Vediamo un po'. Quanto meno un'idea. Ecco. La precisione. Con cui abbiamo giocato. Eccetera. Abbiamo macinato un sistema Londra. Ah. Sì. Neanche troppo alta. Io ho fatto ben. Cinque grandi mosse. Attenzione. Cinque grandi mosse. Due errori gravi. Cinque errori. Quattro imprecisioni. Quali sono le grandi mosse? Questa. Vabbè. Grazie. Va bene. Poi. Poi. Questa. Sì. Ok. Questa è sbagliata. Va. Sì. Va. I finali. Non sto neanche a guardarli. Guardate. Ecco. Questa. Va bene. Questa era ovvio che era necessaria per fermare il pedone. Questa pure. Questa non gli piace. Presa. Beh. Ma qua penso che la partita sia già bellevinta. Meno sette. Sì. Poi l'ultima grande mossa è stata. Questa. Per guadagnare il pedoncino. E va bene. Va bene signori. Partita posizionale. Niente di straordinario. Però una partita abbastanza pulita. Ecco. Poi vabbè. Ripeto. Io di errori ne ho fatti eh. Per esempio qua cosa ho sbagliato. Questo non andava bene. Cosa bisognava fare. Analisi. Donna c2 è la migliore. No. Ma va mona va. B5 errore grave. Perché errore grave? Perché dice. Donna c2 è la migliore. B5 perde il vantaggio. Vabbè. Ma il gioco è comunque pari. Cambio. Cambio. Ma sì. Questa secondo me è una mossa bruttina. È un po' passiva. Cosa doveva fare qua? Torre 1. Torre A1. Eh. Lasciare il pedone e andare di controgioco. Sì. L'altra mossa brutta che ho fatto è stata. Questa re F6. Perché è brutta re F6? Torre H4. Ah. Andare dietro il pedone. Eh. Ma poi io. Poi lui veniva qua. Ah no. Però prendevo e difendevo. Ah. È vero. Quindi re F6 perde il vantaggio. Però resto comunque a meno 3. Quindi. Mantengo comunque un buon vantaggio. Beh. Quindi non ho fatto grandi errori poi alla fine della fiera. Va bene signori. Ok. Vi saluto. Vi auguro un buon fine settimana. Statemi bene. A presto. Ciao cari. Mettete like e iscrivetevi. Naturalmente. Ciao.